Conan il ragazzo del futuro è una serie del 1979, la prima che vede Miyazaki alla regia e uno dei cartoni animati ancora oggi più amati da tutti, tutti quelli che hanno una certa età ma anche adesso molti lo apprezzano nonostante è vero ci siano delle durezze nell'animazione eppure dal punto di vista tecnico pensate che Conan ha detto qualcosa di veramente interessante perché molti modi di animare il mare che ha inventato proprio Miyazaki per quella serie lì sono utilizzati ancora oggi nel cinema di animazione giapponese e probabilmente anche internazionale Conan è una serie veramente ricchissima di aspetti tecnici, produttivi, umani e contenutistici e anche paesaggistici, i paesaggi in Conan sono veramente tantissimi i personaggi viaggiano, si spostano da una parte all'altra del mondo descritto da Airborne all'isola di Conan a Industria e con il fatto che vengono separati in continuazione ogni gruppetto incontra differenti paesaggi, oceani, mondi sommersi, deserti appunto Airborne che è un'isola molto ricca, un'isola agricola, un vero e proprio paradiso terrestre in Dastria che alla fine è un deserto con una torre centrale e una serie di capannoni ai piedi dove abitano gli operai, i lavoratori, la povera gente fu una serie a finanziamento anche abbastanza alto, a lavorazione velocissima ad un certo punto Miyazaki andò in tilt dopo il salvataggio di Lana da parte di Conan chiese aiuto a Taccata che arrivò, diresse, qualche episodio e Miyazaki in cambio lo aiutò con Anna dai capelli rossi dopo aver diretto Conan è stata una cosa molto... questa solidarietà che si sono dimostrati Taccata e Miyazaki nel corso degli anni è qualcosa di veramente inusuale soprattutto tra gli artisti che sono delle persone molto competitive tra di loro se potessero si darebbero tranquillamente delle pugnalate alle spalle loro non l'hanno fatto, anzi si sono sempre molto supportati a vicenda il paesaggio più interessante di Conan è in Dastria che è stato concepito esattamente con lo scopo di dare l'idea di una gerarchia fortissima la torre centrale rappresenta il potere della tecnologia ma un potere schiacciante, oppressivo alla base della torre c'è una distesa di case, di casette di povera gente, di lavoratori oppressi nei sotterranei invece ci sono i detenuti, gli schiavi che lavorano in continuazione per poter produrre materiali materiali che sono tutti derivati dalla plastica anche il pane la scena in cui Conan si trova al centro di meccanismi e macchine di una tramoggia che ingoia plastica e poi produce forme di pane e chiarificatrice di come Miyazaki la pensasse sull'argomento dell'alimentazione e dell'inquinamento tra l'altro trovate un parallelo a questo in Il ragazzo e l'airone in cui i warawara, così belli, delicati, chic, coppe mangiano l'interiora di un pesce che Amaito fa schifo, che poverello non sta vomitando per 30 e 31 e quindi questo che cosa vuol dire? ma se a me piace una cosa, quella mi serve e a te fa schifo ma fatti anche un po' i fattacci tuoi su quello che mangio io basta che non le da nessuno l'architettura di industria è veramente angosciante la parte più terribile, drammatica è il core, il nucleo dove c'è l'antica città degli scienziati alcuni di loro hanno fatto penitenza ma appunto nei sotterranei di Indastria si trova ancora questa città come se fosse incenerita è un dolorosissimo rimando alla distruzione atomica di Hiroshima e Nagasaki in cui tutto è rimasto quasi fermo immobilizzato incenerito è un po' e così nel core di Industria in cui c'è anche un cimitero c'è una quantità enorme di lapidi che sembrano tronchi sembrano tronchi tagliati tutti alla stessa altezza ed è una scena veramente dolorosissima è una delle scene più drammatiche di tutto Miyazaki secondo me altissimo il contrasto con Ayerbor Ayerbor che è un'isola molto fiorita molto colorata molto amena in cui un po' il tono del cartone animato inizia a diventare forse un pochino troppo simile ad Aidi un po' troppo leggero c'è qualche puntata forse in più che è funzionale certamente alla definizione del rapporto tra Lana e Conan però forse tende ad essere un po' stucchevole in questo in questo sì mi sento mi sento di poterlo dire per poi riprendere nel il tono drammatico molto elevato perché Ayerbor viene viene invasa insomma lana viene rapita di nuovo ad Ayerbor una delle qualità paesaggistiche primarie è l'enorme distesa di campi di grano maturo Miyazaki disse che avrebbe voluto inserire del riso e non dei campi di riso e non di grano però che questo gli avrebbe chiesto qualche puntata in più e già appunto se ne erano andate un po' troppe quindi lasciò il grano e questa distesa di giallo è la caratteristica visiva principale di Ayerbor è proprio il giallo dei campi di grano con questo contrasto Miyazaki mette in chiaro qual è la sua opinione riguardo all'alimentazione gli industriani che sono tecnologicamente evoluti vivono male poiché hanno delle scorte limitate devono accedere alla rielaborazione della plastica non hanno beni in quantità tali da soddisfare neanche la richiesta interna addirittura i beni come il vino o gli alcolici vengono utilizzati come forma di corruzione gli arboresi non sono tecnologicamente arretrati hanno una tecnologia un po' nascosta a paragone degli degli industriani vivono in maniera decisamente opulenta possono mangiare carne e possono mangiare pane fresco in sostanza a industria il sistema produttivo è perfettamente rappresentato dalla conformazione paesaggistica delle strutture architettoniche un grande asse centrale molto possente imponente anche spaventoso e poi al piano una massa più o meno indistinta di persone grazie per avermi seguito fin qui queste altre informazioni nel mio libro il paesaggio incantato i giardini segreti di Ayao Miyazaki grazie a tutti grazie a tutti Grazie.